...spenti i microfoni e spente anche le videocamere. Lascio la parola al nostro amministratore delegato direttore generale Recaro Trichillo per l'apertura dei lavori di questo webinar. Prego. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Due parole e una riflessione da condividere con voi. La riflessione che viene abbastanza naturale anche guardando il titolo di questo evento Innovazione, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, le nuove opportunità del Bando Life 2021. Io credo che concordiate tutti che mai come quest'anno questo bando è importante ed è strategico, mai come in questo periodo parlare di sostenibilità assume un ruolo così pieno e così importante. E' pieno nel senso proprio del termine, nel senso che non si parla soltanto quindi di sostenibilità diciamo ambientale ma va vista come si usa dire proprio in maniera proprio più completa anche di sostenibilità economica e sociale, cioè coniugare come si dice le tre P, profit, planet e people. Ecco questo cosa comporta? Comporta da parte di tutti noi, noi che operiamo nelle aziende, noi imprenditori, noi manager di aziende richiede la capacità di gestire una complessità decisamente maggiore rispetto a prima. Quindi saper coniugare in maniera corretta tutte le varie implicazioni che una scelta può avere in campo diciamo sia ambientale che come dicevo sociale e poi soprattutto il fine finale. L'ultimo è proprio quello di riuscire a creare qualcosa di così virtuoso che fa bene alle nostre aziende, le rende più competitive e nello stesso tempo le rende diciamo decisamente più sostenibili in modo tale da poter quindi riuscire a dare un contributo al cambiamento, a rendere la vita e il nostro mondo migliore. Ecco tutto questo per trasmettere il fatto che per poter affrontare in modo con successo un'iniziativa come questa che richiede dicevo una complessità così ampia, il CSMT si propone e si pone proprio come un partner di riferimento robusto e capace proprio grazie alla natura stessa del CSMT. Il CSMT che quindi sa coniugare le competenze, le caratteristiche tecniche proprio per sua definizione e nello stesso tempo saper decodificare e interpretare al meglio i bandi in modo tale poi da poter presentare il progetto nel modo più completo possibile. Questo diciamo l'abbiamo anche dimostrato con successo negli anni e lo testimoniano infatti i bandi che siamo riusciti a fare a giudicare a diverse e molte realtà bresciane. Proprio per questo sentiamo forte la responsabilità, la responsabilità tant'è che abbiamo anche rappresentato nel nostro pay off, sotto il logo nostro c'è proprio scritto fare insieme innovazione sostenibile, proprio questo a rappresentare come è nel nostro DNA questa diciamo la missione di di sapere ricodificare le soluzioni tecniche in modo completo, in modo tale da poter quindi soddisfare tutte le varie caratteristiche che la sostenibilità quindi richiede, in particolar modo i tempi nostri questi richiedono. Quindi detto questo io credo che non possiamo non sfruttare al massimo questa straordinaria opportunità che l'Europa ci offre, quindi di poter avere questo bando messo a disposizione che peraltro ha tempi abbastanza ristretti, quindi questo rende ancora più complicato sapere gestire dicevo tutta la complessità tecnica e gestionale di cui parlavo prima e contrattuale e quindi dobbiamo farlo e dobbiamo farla in tempi in tempi rapidi quindi riuscire tutti insieme grazie anche al nostro supporto a fare una selezione dei progetti di innovazione che chiaramente avete lanciato nelle vostre aziende e riuscire a selezionare quelle che possono avere maggiore probabilità di successo per poi vestirle, presentarle queste soluzioni nel modo più opportuno. Come dicevo all'inizio questa straordinaria opportunità ha sicuramente dicevo un impatto importante per le nostre realtà, per le nostre aziende, per renderle come dicevo più competitive ma mi fa piacere dargli anche una valenza più ampia, più alta quella di dire sì faccio questo e nel far questo do il mio contributo tangibile, concreto e coerente anche a rendere il nostro mondo migliore e più vivibile. Grazie e buon lavoro a tutti. Benissimo, grazie Riccardo delle parole per introdurre l'incontro. Adesso veniamo all'incontro, sarà un incontro abbastanza veloce, abbastanza efficace, ci auguriamo e snello. Ovviamente vogliamo presentarvi il Bando Live, l'opportunità che il nostro amministratore ha già sottolineato, un'opportunità importante, importante lo capiremo tra poco per la valenza economico finanziaria che ha, importante per il tema, importante anche per la storia che ha questo Bando Live e soprattutto per la storia di successo di cui parleremo nei prossimi minuti. Io sono Alberto Bonetti, sono responsabile in CSMT dell'area di project funding che si occupa proprio di cercare di intercettare e sfruttare al meglio i canali di finanziamento a supporto dell'innovazione della competitività del tessuto imprenditoriale bresciano in particolare. Con me c'è Matteo Falasconi, anche lui funzionario e esperto nell'ambito Live. Io ora lascerò la parola a Matteo per la presentazione del Bando. Cercheremo di essere non troppo lunghi perché è un Bando comunque noto, un Bando che come vedremo è operativo da diversi anni, però alcuni di voi potrebbero non averne piena coscienza. Insomma, quindi è opportuno richiamarne i principi di funzionamento principali e le scadenze e le caratteristiche. Io poi sottolineerò alcuni aspetti legati a progetti attualmente in corso per farvi capire la tipologia di progetti che vengono attualmente finanziati dal Bando Live e che potranno esserlo in futuro, oltre alcune sottolineature che riguardano la selezione e la valutazione dei Bandi Live. Lasceremo aperto poi dopo a valle di queste due brevi presentazioni la possibilità di poter rispondere a vostre domande. Potrete anche collegarvisi in modo scritto utilizzando la chat e anche in modo diretto potrete poi aprire i vostri microfoni se vorrete farlo alla fine dell'incontro per porre ogni tipo di domanda. È ovvio che questo incontro poi potrà avere del seguito, quindi se ci saranno alcuni di voi che vorranno approfondire in modo più dettagliato l'opportunità del Bando Live e capire se la propria azienda, la propria realtà può accedere a questo Bando, potremo poi sentirci in seguito e saremo sempre disponibili in merito. Lascio allora la parola a Matteo Falasconi per la presentazione del Bando Live e delle caratteristiche del Bando. Vi ricordo ancora di tenere spenti i microfoni, di tenere spenti anche le videocamere, visto che questo evento verrà videoregistrato e in parte verrà diffuso anche su canali social di CSMT e quindi vi raccomandiamo di non attivare la vostra videocamera in merito. Matteo, prego. Hai il microfono spento Matteo, dovresti attivarlo. Grazie Alberto. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro. Io procederei subito a proiettare le slide che ho preparato. e la proiezione funziona? Sì sì, si vedono assolutamente bene e ovviamente queste slide verranno rese disponibili anche a Valle dell'incontro. Prego Matteo. Perfetto. Allora, il Bando Live, innanzitutto vorrei dire due parole sul programma Live, che è uno dei programmi storicamente più longevi a livello europeo, a livello comunitario. è un programma che ormai è attivo già dal 1992, inizialmente gestito dalla commissione attraverso varie agenzie. e oggi viene gestito da un'agenzia che si chiama Cinea. È un programma che ha finanziato bruttissimi progetti nel corso di questi anni. quasi 5.000 progetti in tutta Europa, oltre 800 progetti finanziati in Italia, 795 ai tempi di questo survey. e circa il 50 per cento di questi progetti sono coordinati da soggetti privati, siano realtà diciamo for profit o non profit, e più o meno la metà hanno un ente di ricerca all'interno del parternariato. Cosa interessante è che 9 progetti su 10 sono progetti multipartner, ma esistono ovviamente anche progetti live monopartner. tipicamente la partnership è molto contenuta, quindi sono progetti con meno di 5 partner che fanno parte del consorzio. e 7 progetti su 10 sono progetti comunque di innovazione, siano essi progetti piloti o progetti dimostrativi in ambiente rilevante. e per cui life è un bando fortemente orientato a sostenere l'innovazione, l'innovazione industriale che sia di prodotto o di processo. e poi chiaramente Alberto presenterà alcuni progetti che abbiamo seguito e che stiamo seguendo attualmente e che vi daranno un'idea molto più concreta di quelle che sono le tipologie di progetti finanziati in ambito life. e generalmente il costo medio, per la verità, il costo medio ultimamente è salito intorno ai 5 milioni, diciamo che il contributo europeo medio nei progetti life è all'incirca di 2 milioni di euro. anche se non vi sono vincoli particolarmente restrittivi da questo punto di vista, nel senso che il bando è aperto a progetti con richieste di contributo piuttosto varie, insomma da 2 a 10 milioni. generalmente i progetti life hanno una durata triennale, vanno più o meno da un minimo di 24 mesi fino a 5-6 anni di durata massima. questo per dare un po' l'idea di quelle che sono le caratteristiche generali dei progetti che sono stati finanziati fino ad oggi, il bando, il programma life è comunque un programma a tema libero, per cui l'Europa definisce una serie di priorità tematiche, che andrò a illustrarvi adesso, e come vedrete poi in realtà è possibile presentare progetti che siano in linea con queste priorità ma su temi estremamente liberi e variegati. Tant'è vero che, ecco questo è un po' un quadro diciamo, che risulta da una survey fatta a livello europeo su 2.600 progetti, come potete vedere sono stati finanziati progetti su temi estremamente diversi, sempre legati alla sostenibilità ambientale, che vanno dalla gestione dei rifiuti all'economia circolare, all'eco design di prodotto, tecniche innovative, processi di trattamento acque, risparmio idrico, riduzione dell'inquinamento in generale, che sia diciamo in ambiente, che sia inquinamento del suolo, delle acque, dell'aria, e quindi comunque intesa riduzione di emissioni di sostanze inquinanti. Interventi che riguardano per esempio la progettazione urbana per l'attamento al cambiamento climatico, l'agricoltura sostenibile, l'agricoltura di precisione, in generale riduzione di emissioni di gas serra, in particolare in settori ad alta intensità energetica, le energie rinnovabili, eccetera. Quindi veramente i temi coperti dai progetti finanziati ad oggi sono estremamente vari. Parlando, venendo al bando 2021, il bando è stato pubblicato il 13 luglio, la dotazione finanziaria di quest'anno ammonta complessivamente a 580 milioni di euro, che sono suddivisi in quattro sottoprogrammi. I quattro sottoprogrammi sono Natural Biodiversity, Circular Economy and Quality of Life, Climate Change Mitigation and Adaptation, e poi c'è una nuova area che si chiama Clean Energy Transition. Chiaramente le aree 2, 3, 4 sono quelle che hanno più rilevanza, soprattutto per le realtà private, quindi per le aziende e le industrie, e le scadenze per la presentazione dei progetti delle aree 2, 3 e il 30 novembre, la scadenza dei progetti che ricadono nell'area 4 è il 12 gennaio 2022. Le principali novità del 2021, quali sono? Innanzitutto è stato introdotto un nuovo sottoprogramma, che si chiama proprio Clean Energy Transition, e vediamo poi, vi spiegherò qualche dettaglio di quali sono le priorità tematiche di questo nuovo programma. La procedura di presentazione dei progetti è single stage, che significa che alla data di scadenza, quindi o il 30 novembre o il 12 gennaio, vanno presentati dei progetti esecutivi, che normalmente sono progetti di 100-120 pagine circa, quindi piuttosto strutturati. E' stato definito un nuovo format per l'application tecnica, e anche un nuovo portale per la presentazione delle domande, diverso da quello che c'era fino all'anno scorso. Cosa molto interessante, i beni durevoli sono elegibili per l'intera montata del costo, quindi quello che viene chiamato full cost, a differenza del passato, in cui i beni durevoli erano elegibili soltanto per le quote di ammortamento che cadevano nella durata, nell'arco temporale del progetto. E questo fa sì che ovviamente il progetto diventi molto più interessante ed efficiente dal punto di vista del contributo che si viene a ricevere dalla Commissione Europea. E poi sono stati definiti dei nuovi criteri di valutazione e metodi di attribuzione dei punteggi che Alberto spiegherà in dettaglio nella successiva presentazione. Venendo un po' per capire quali sono le caratteristiche dei progetti che ricadono all'interno delle varie aree, due parole su quelle che sono le priorità. Quindi nel sottoprogramma Circular Economy and Quality of Life, i progetti che vengono finanziati, la priorità tematica e l'obiettivo della Commissione Europea è quello di facilitare la transizione verso un'economia sostenibile circolare a minore emissioni e più efficiente dal punto di vista delle risorse sia di materie prime che energetiche che ovviamente è finalizzata a migliorare la qualità dell'ambiente. I temi riguardano la gestione dei rifiuti, ovviamente perché si parla di circolarità, ma anche delle risorse idriche, riduzione delle emissioni in ambiente, in atmosfera, riduzione dell'impatto sonoro, gestione del suolo e quindi riduzione delle emissioni di sostanze chimiche nel suolo e in generale sviluppo di soluzioni che prevedono alternative a prodotti chimici con particolare riferimento all'ambito ricci. In questo caso la scadenza per la presentazione dei progetti è il 30 di novembre e la successiva area, quindi Climate Change, Mitigation and Adaptation, questi sono progetti sostanzialmente finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze clima alteranti, quindi stiamo parlando di gas serra, e all'implementazione di azioni che siano oltre che di mitigazione del cambiamento climatico, di adattamento al cambiamento, quindi esempi di mitigazione sono ad esempio soluzioni che propongono nuove o innovative energie rinnovabili o magari l'utilizzo di fonti rinnovabili non ancora totalmente dimostrate, efficientamente energetico, ovviamente attraverso sempre l'utilizzo di soluzioni originali, produzione industriale ad alta intensità energetica in cui si usano soluzioni per ridurre l'emissione di gas serra, e tra questi ci sono anche per esempio interventi che riguardano l'ambito agricolo, l'ambito dei trasporti, combustibili alternativi, utilizzo di gas refrigeranti HFC, diciamo in alternativa agli HFC che sono altamente impattanti dal punto di vista della CO2, poi finalmente la cattura e l'utilizzo della CO2, questi sono soltanto alcuni esempi, ma in realtà si possono proporre progetti anche su altre tematiche. Esempi di adattamento sono strumenti e soluzioni di gestione del territorio, proprio per adattarsi a quello che è il cambiamento climatico in atto, interventi che riguardano infrastrutture, pianificazione urbana, edifici, agricoltura di precisione, in generale agricoltura sostenibile, gestione delle risorse idriche, quindi risparmio di acqua, oppure interventi in risposta a eventi meteorologici estremi. Anche in questo caso la scadenza per la presentazione del 30 novembre e l'ultima area, che è quella nuova, diciamo, che cade sotto appunto il nome di Clean Energy Transition, in questo caso sono stati definiti 18 diversi ambiti tematici, quindi sono 18 topic, uno diverso dall'altro. In questo caso i topic sono tematici nel senso che il progetto deve rispondere al tema definito dalla Commissione Europea e le finalità di quest'area programmatica sono quelle di aiutare a costruire un quadro politico nazionale, regionale e locale a sostegno della transizione verso l'energia pulita, accelerare l'uptake, diciamo, di tecnologie, tecnologie sia hard che soft, stiamo parlando anche di tecnologie digitali, oppure nuovi servizi, nuovi modelli di business, e valorizzare ovviamente le competenze professionali presenti a livello territoriale, in ambito energetico, attrarre finanziamenti privati per l'energia sostenibile, sostenere il sviluppo di progetti di investimento locali in favore appunto della transizione energetica, e infine coinvolgere i cittadini e quindi fare awareness rising nella transizione energetica verso le fonti alternative. ovviamente non posso entrare nel merito dei diversi topic perché ci vorrebbe mezza giornata, chiaramente se siete interessati ad approfondire siamo a disposizione per vedere i temi in dettaglio. La scadenza in questo caso è il 12 gennaio del 2022. Che cosa finanzia il bando LIFE? Allora i progetti LIFE devono avere sostanzialmente alcune caratteristiche di massima. Ovviamente la prima cosa è che abbiano delle finalità ambientali, questo deve essere lo scopo prevalente di un LIFE. Un progetto deve mirare alla sostenibilità ambientale, quindi viene data molta enfasi a quelli che sono gli impatti, i benefici, le ricadute dal punto di vista ambientale del progetto. Poi comunque deve portare con sé degli elementi di innovazione o di originalità. L'innovazione potrebbe essere di tipo radicale o incrementale, l'originalità potrebbe consistere anche nell'applicare delle migliori pratiche e quindi può essere anche un progetto di trasferimento di conoscenze in cui si applicano best practices definite in altri contesti, ad un contesto dove queste non sono ancora utilizzate o dimostrate. Deve avere ovviamente una dimensione tale da consentire il reagimento dei risultati e la misura di impatti che siano ambiziosi. L'ambizione del progetto, il livello di ambizione, il target deve essere alto, ovviamente perché stiamo parlando di call estremamente competitive. In Europa penso che finanzieranno un centinaio di progetti che arrivano da tutta l'Europa, quindi il livello di competizione è molto alto. Gli impatti del progetto devono essere concreti, quantificabili, misurabili e misurati. Quindi il progetto deve avere oltretutto un potenziale elevato anche di replicazione e di trasferimento, quindi non può essere un progetto fine a se stesso, deve essere in qualche modo mirato a poi replicare o trasferire su una scala più ampia i risultati che sono stati ottenuti. La commissione desidera anche che i risultati vengano divulgati, promossi il più possibile, quindi il progetto dovrebbe avere una visibilità elevata, sia ovviamente per dare visibilità al supporto ricevuto dall'Europa, sia per favorire la replicazione e trasferimento dei risultati. Tipicamente, come dicevo prima, il costo tipico di un progetto live va dai 2 ai 10 milioni di euro, quindi la commissione si aspetta che a fronte di questo investimento di risorse vi sia un elevato valore aggiunto dei risultati raggiunti. La durata non è particolarmente vincolante, però come dicevo prima, tipicamente intorno ai 3-5 anni e nel caso di progetti presentati da aziende che siano close to market, quindi progetti vicini a quella che è la realtà del mercato, perché addirittura i live finanziano attività che possono arrivare non solo all'industrializzazione, ma alla commercializzazione dei risultati raggiunti, in questo caso viene richiesto un piano di business a 3-5 anni dopo la fine del progetto. Ai live possono partecipare sostanzialmente tutti, cioè qualsiasi soggetto giuridico, quindi sono esclusi soltanto le persone fisiche, che sia pubblico o privato, sia commerciali, for profit che non profit, che abbia sede legale in un paese dell'Unione Europea o sono ammessi anche paesi associati al programma, c'è una lista di paesi associati. I progetti possono essere proposti sia individualmente, come dicevo prima, che in parternariato, tipicamente con dei parternariati abbastanza contenuti. E questo è vero per l'area Circular Economy e per l'area Climate Change, mentre per quanto riguarda il sottoprogramma Clean Energy Transition, è richiesta obbligatoriamente una partnership transnazionale in cui siano coinvolti almeno tre partner di diversi stati membri. A livello di spese ammissibili sono elegibili costi sostanzialmente di qualunque tipo, costi di personale, il personale può essere dipendente, potrebbe essere non dipendente, con contratti a progetto ad hoc, potrebbe essere personale in secondment, quindi distaccato da altre realtà. Se la società che presenta il progetto è un gruppo, potrebbe essere personale di entità appartenenti al gruppo di imprese, quindi alla holding. sono ammessi costi di personale, materiali di consumo, consulenze esterne, viaggi, missioni, costi di altro tipo legati alla disseminazione, all'audit. Cosa molto interessante, come dicevo prima, sono ammessi anche gli investimenti, quindi tutti i beni durevoli, macchinari e attrezzature in particolare, sono elegibili a full cost, quindi non in quota di ammortamento, come ho spiegato prima. Nei life c'è una quota di costi indiretti con un flat rate del 7%, cosa molto importante è che sono elegibili sul progetto esclusivamente costi sostenuti dopo la data di avvio del progetto stesso. Ora, due parole sulla timeline, la scadenza, vi ricordo, è il 30 novembre o il 12 gennaio, a seconda del programma, poi c'è una fase di valutazione che dura diversi mesi, la Commissione si aspetta di avvisare i beneficiari che sono risultati vincitori più o meno nel periodo maggio-giugno 2022 e la data utile per la partenza dei progetti è il primo settembre 2022, quindi ci vuole un po' di tempo affinché sia completato l'inter di valutazione di firma del contratto. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto minimo del 60%, minimo perché è il 60% sulle aree 2 e 3, mentre in alcuni casi, appunto nell'area clean energy, il contributo può arrivare addirittura a coprire il 95% dei costi sostenuti. questo viene erogato secondo modalità europee, quindi tipicamente europee, in maniera diretta da Bruxelles, con un prefinanziamento ad avvio progetto che viene pagato normalmente entro 30 giorni dalla firma del contratto, pari al 30% del contributo deliberato, poi c'è un secondo prefinanziamento a stato di avanzamento, tipicamente a metà progetto e alla fine un saldo finale in cui ovviamente si fanno gli opportuni conguagli in base a quello che è l'esito della rendicontazione. Cosa interessante comunque sia che a differenza dei bandi che voi magari conoscete a livello regionale e nazionale, qui si lavora con i soldi già sul conto corrente dell'azienda. La proposta si presenta esclusivamente online attraverso il portale Funding and Tenders della Commissione Europea e l'application form consiste di tre allegati principali più vari annex, quindi c'è una parte A con dati amministrativi e finanziari, una descrizione tecnica del progetto, come dicevo prima, al massimo può essere di 120 pagine e poi ci sono alcune varie informazioni addizionali e annex, quindi allegati che sono sostanzialmente materiali di supporto che si può decidere di allegare al progetto, per esempio nei progetti close to market il business plan è uno di questi collegati. Noi come CSMT che cosa offriamo? Offriamo un supporto sostanzialmente a 360 gradi, nel senso che il nostro team ha un'esperienza pluriannale nella progettazione europea, in particolare in ambito LIFE, io scrivo LIFE da 12 anni e ne ho scritti e seguiti diversi, una quarantina, abbiamo competenze di alto livello sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista tecnico che riguardano la scrittura e la presentazione del progetto, ma anche ovviamente le attività di gestione del progetto stesso. poi Alberto magari su questo dirà due parole in più e quindi noi seguiamo l'azienda in fase di valutazione di prefattibilità, di scrittura e di presentazione, di gestione del progetto, di supporto amministrativo alla rendicontazione, abbiamo un'area di CSMT che si occupa anche della valutazione degli impianti ambientali con metodologie ISO 1400040, quindi stiamo parlando di Life Cycle Assessment e Life Cycle Costing e abbiamo un network sia a livello locale soprattutto ma anche nazionale e internazionale di contatti con partner di altissimo livello sia tecnico che scientifico con cui abbiamo già collaborazioni in essere e con cui si possono attivare collaborazioni su progetti Life e pensiamo, riteniamo anche di avere un tasso di successo piuttosto elevato, questo almeno su base storica, nel senso che ad oggi abbiamo visto sostanzialmente che i progetti seguiti da CSMT hanno un livello diciamo di successo che è forse più del doppio rispetto a quello che è il livello di successo, il rendimento di successo medio statistico a livello comunitario. Questi sono i miei contatti per qualsiasi diciamo approfondimento e anche prevalutazione delle idee progettuali io rimango a vostra disposizione, potete contattarmi via mail preferenzialmente o anche telefonicamente. Grazie Perfetto, grazie Matteo, grazie della presentazione, io spero che la presentazione sia stata efficace per far capire qual è la rilevanza dell'opportunità di Life, che è un bando importante, che ha fondi consistenti, che offre contributi in conto capitale importanti, tra l'altro ha supporto, come diceva Matteo, di una tipologia di costi molto ampia dove rientrano anche costi tra l'altro pesanti, come quelle delle attrezzature, i costi di personale interno, oltre ai costi di tipo esterno. Quindi è un'opportunità interessante. Quello che vorrei fare nel mio breve intervento è aumentare, mi auguro, la vostra curiosità e voglia di capire cosa vuol dire attivare un progetto Life attraverso due strumenti. Uno è quello di esemplificare quali sono i progetti oggi in corso, che CSMT sta seguendo oggi, che sono stati finanziati negli ultimi bandi Life, per entrare nel concreto, come si dice, o comunque per esemplificare in modo chiaro quali sono tipologie di progetti che abbiamo finanziato, e poi due parole sulla modalità di selezione, scelta e allocazione di questi fondi, che è un altro degli elementi virtuosi di Life. Life è un programma veramente molto ben strutturato, su questo lo capiremo nell'arco di pochi minuti. Cercherò di essere breve, anch'io condivido lo schermo con qualche slide che mi aiuti nella presentazione. Ecco, dovrebbe essere visibile la slide di presentazione, quindi cominciamo a commentare meglio, cosa vuol dire, che tipo di progetti vengono finanziati, anche come vengono selezionati, come vengono scelti e come vengono erogati questi fondi. In primo luogo, Matteo lo ha già anticipato prima, noi non parliamo di Life per sentito dire o solo perché è un titolo interessante o perché è il programma ambientale principale della Commissione Europea, in fondo ne stanno parlando più o meno tutti in questo periodo, ci sono incontri, webinar di vario genere a vario titolo. Parliamo di Life perché lo usiamo, perché lo conosciamo, perché vi lavoriamo da diversi anni, come Matteo ha indicato. Negli ultimi anni, dal 2013, per essere concreti, abbiamo attivato 10 progetti finanziati, un budget complessivo di più di 26 milioni di euro e più di 11 milioni di euro di contributi a fondo perduto sui progetti che sono stati finanziati e istruiti da noi, con diversi partner. Vedete alcuni titoli, insomma, che sono ben noti dai partner più istituzionali, dall'università, confindustria, fino a alcune delle realtà aziendali importanti della nostra area. Facciamo qualche esempio, quindi vediamo che so, gli ultimi 3 o 4 progetti che sono stati presentati. Comincio subito dall'esempio più fresco, nel senso che è un progetto che è partito al primo di settembre, quindi pochissimi giorni fa, l'abbiamo presentato nell'ultimo bando Life, ovviamente tutte le informazioni che avete proiettate sono di carattere pubblico, perché Life è un programma di finanziamento pubblico, lanceremo comunque questo progetto tra l'altro con un evento, una conferenza stampa che si terrà tra poche settimane e che ne darà ancora maggiore evidenza, ma siamo lieti di menzionarlo in questo webinar, lo ripeto, è partito il primo di settembre, è stato finanziato nell'ultima colla, tra l'altro a proposito di percentuali di successo, l'ultima colla ha visto il 7% dei progetti finanziati, quindi siamo particolarmente lieti di mostrare non solo che siamo riusciti a ottenerlo, ma che si può ottenere con un buon progetto e una buona valenza tecnica e anche ambientale, si può tranquillamente concorrere sul bando Life, che concorrenziale lo è, ma è comunque a noi noto in tutte le diverse caratteristiche. Questo è un progetto che è stato finanziato appunto dalla fabbrica d'armi e beretta, come vedete, assieme a un altro partner che si chiama Duralar, è un progetto che ha ottenuto un milione, poco più di un milione e 700 mila euro di contributo a fondo perso, ha un obiettivo molto importante, cioè quello di lavorare per trovare una alternativa all'utilizzo di cromo esa valente in processi di produzione di cani da fucili da fabbrica d'armi e beretta, ma soprattutto la valenza ancora più ampia di questo progetto è trovare delle tecnologie alternative all'utilizzo del cromo esa valente che faranno e fungeranno da storia di successo molto utile in diversi altri ambiti industriali che fanno uso di cromo esa valente oggi e che stanno individuando e cercando delle alternative tecniche. Quindi è un progetto che non ha solo valenza per il cliente, per la fabbrica d'armi e beretta, ma ha una valenza ben più ampia e ha una replicabilità che andrà anche in diversi altri settori, quali quello delle rubietterie e altri settori che utilizzano questo tipo di processo nei trattamenti superficiali. Un secondo progetto che invece è attivo già da un anno circa, in cui come vedete siamo all'interno della partnership con altre realtà come Turboden che è la capofila del progetto e Orimar 10 Cogen Europe e Rina Consulting. È un progetto un po' più grosso come Valenza, quindi più di 6 milioni di euro di costo per 2 milioni e 6 di contributo a fondo perso. Qui invece il settore è diverso, questo è il settore del recupero calore, della valorizzazione del calore di scarto da processi industriali, che è un tema che per l'area di Brescia ha una valenza importantissima, pensate a quante acciaierie o comunque a quante industrie energy intensive che hanno anche una produzione residua di calore che è molto importante, che va sfruttata, che va rimessa in circolo. Il progetto si chiama EatLip, appunto in corso, è iniziato un annetto fa e l'obiettivo è quello di testare la tecnologia che Turboden sta sviluppando per la valorizzazione in particolare del calore di scarto a bassa temperatura nella ceria Orimar 10 e anche in altri siti collegati al progetto. È una storia che viene da lontano, quella della partecipazione, dello sfruttamento del calore industriale e dello sfruttamento di questo tipo di, della declinazione di questo tema all'interno di programmi di finanziamento. Ricordo che Orimar 10 è stata condotta sempre con il supporto di CSMT già in un precedente progetto che si chiama Pitagoras, finanziato ancora dalla Commissione Europea Direzione Generale Energia, tramite il quale Orimar 10 ha sviluppato un sistema di emissione e recupero del calore, stavolta alta temperatura, per immetterlo all'interno della rete di teleriscaldamento di A2A. Progetto già ben noto, già pubblicizzato diverse volte che si è chiuso un paio di anni fa e anche questo è un altro caso di utilizzo di fondi europei. Il terzo, siamo quasi verso la fine degli esempi, il terzo progetto che abbiamo oggi in corso e mostra quanto Life sia democratico, userei questo termine come strumento, nel senso che Life è un programma che premia le buone idee da dovunque queste arrivino. Non solo se arrivino da grandi imprese come Fabrica Dalmi e Beretta, piuttosto che da imprese sempre molto consistenti, importanti come le Acceire, Orimarteno, l'azienda Turboden o altri, ma anche se arrivano da aziende che non hanno esattamente questo tipo di profilo e di storia e di rilevanza industriale. L'esempio è questo progetto, un progetto che oggi è in corso, più piccolo, ha ricevuto 760 mila euro di contributo a fondo perso, presentato dalla VM Carrozzerie che è qui in provincia di Brescia, un progetto sostenuto tra l'altro dalla classe Lombardo della mobilità, ma comunque proposto da un'azienda che non ha certo il curriculum industriale delle entità che abbiamo proiettato prima, ma che ha presentato una buona idea che è quella di sfruttare dei kit di trasformazione degli attuali veicoli diesel in veicoli B fuel diesel metano e quindi avendo un impatto ambientale molto importante sia in termini di emissioni che in termini di consumi energetici in sé. Questo è un progetto quindi molto operativo, molto diretto, molto pratico, stanno installando in VM Carrozzerie proprio in questo periodo 50 kit su altrettanti veicoli da autobus a camion eccetera e tramite una life cycle assessment che viene realizzata da CSMVT vorranno dimostrare che questa è una tecnologia importante che merita una replicabilità. Il motivo per il quale hanno ottenuto il finanziamento life è proprio questo, dimostrano una tecnologia che è per loro importante, sulla quale hanno stabilito un loro business plan, sulla quale vogliono creare business per la loro azienda, ma è anche una tecnologia che al tempo stesso diventa un esempio per altri ambiti, per altre realtà, quindi ha un effetto moltiplicatore importante che lo ripeto è il concetto del life. Life vuole finanziare progetti di buona valenza, progetti importanti per le realtà che presentano questi progetti, ma soprattutto progetti che hanno una possibile replicabilità in termini più ampi. L'ultimo esempio che portiamo è quello del progetto Autoplus, chiuso da pochi mesi, un progetto alquanto consistente in termini di costi, più di 4 milioni di euro per un milione e due di contributo a fondo perso, in questo caso la capofila è la società Valseer per un progetto che anche questo ha valenza industriale e ambientale. Da un lato dal punto di vista ambientale vuole recuperare materiale plastico che deriva dalla demolizione del settore automotive per trattarlo e per rimetterlo nell'economia circolare nel ciclo, dall'altro c'è una società Valseer che ha utilizzato questi fondi per prototipare una prima linea industriale in un settore nella quale hanno tutta l'intenzione di poter crescere, di poter sviluppare un loro ambito. È ovvio la valenza ambientale e ovvio anche la valenza industriale. Bene, questo era per introdurvi in modo un po' più pratico quanto Matteo ci ha raccontato in modo teorico, quindi esiste un bundle, esistono delle linee guida, esistono delle potenziali progetti ma che diventano realtà e ve ne abbiamo portati alcuni esempi, non stiamo ovviamente a presentarli tutti e dieci perché vogliamo cercare di essere efficaci. Ora, perché parliamo dei criteri di valutazione? Perché parliamo e spendiamo qualche minuto su questo argomento? Che è un argomento che tra l'altro io conosco bene perché svolgo il ruolo da valutatore in genere ovviamente per la Commissione europea da quasi 30 anni, dal 1993, quindi è un ruolo che conosciamo bene, ma per due motivi lo facciamo. Uno perché Life è un programma terribilmente serio nella modalità di valutazione dei progetti da finanziare, quindi è molto serio nello screening, chi presenta progetti Life, sia chi viene finanziato e anche chi non viene finanziato, ottiene un riscontro molto competente dai valutatori Life. I valutatori Life sono esperti che sanno leggere in modo attento il progetto e lo sanno valutare in tutte le sue caratteristiche, quindi potrei dire con serenità che se un progetto non viene finanziato è perché merita di non esserlo e i motivi sono espressi nel giudizio, nel paio di pagine che i valutatori Life restituiscono a chi presenta il finanziamento. Questo è molto confortante per le realtà che fanno il mestiere come CSMT perché vuole dire che l'intera valenza, le intere motivazioni che portano a successo risiedono sulla qualità del lavoro che possiamo fare noi con i nostri partner, i nostri clienti. Questo per noi è importante, è confortante, non c'è nessun altro tipo di strategia particolare, né geografica, politica o di qualsiasi altro genere che influenza la locazione dei bandi Life e questo tra l'altro è vero per tutti i bandi europei di tipo diretto e non lo diciamo per sentito dire, ma per vissuto diretto. Questo è ottimo per dei progettisti perché vuole dire che la valenza e la qualità del progetto è veramente la sola cosa che conta e quindi possiamo approcciarci con serenità al bando Life. Questo non vuol dire che sia facile, è sempre competitivo ma perlomeno pulito. Qualche parole cercherò di essere davvero breve per farvi capire quali sono gli elementi di valenza del bando Life. I criteri di valutazione che vengono usati dai valutatori che leggono al progetto e che danno un punteggio al progetto e sulla base di questo punteggio il progetto verrà o non verrà finanziato sono abbastanza semplici, abbastanza strutturati e riguardano le slide sono in inglese perché dobbiamo convivere con questa lingua se vogliamo essere vincente all'interno di questo tipo di bandi. Comunque sono la rilevanza del progetto con riferimento al bando, l'impatto e quindi la valenza del progetto che non sia un progetto di nicchia, che sia un progetto che può avere un impatto misurabile e importante, la qualità del progetto quindi se è fatto in modo opportuno, intelligente, se dimostra capacità e professionalità e le risorse e cioè che ci sia una richiesta di finanziamento che sia comparabile con l'impatto che vogliamo promettere che sia quindi misurabile. Ecco io non mi soffermerò su diversi criteri in modo lungo, li scorrerò e semplicemente saranno poi parte del materiale che vi verrà reso disponibile e sul quale potremo tornare in seguito. Ovviamente ci sono delle soglie da superare in termini di punteggio sopra le quali si può essere considerati elegibili per ottenere il finanziamento. Andiamo allora a un breve commento sui criteri di assegnazione del finanziamento. Conoscere i criteri vuol dire sapere cosa scrivere e come scrivere i progetti, quindi è un elemento veramente essenziale. Sono criteri pubblici quindi non sono informazioni coperte da alcun tipo di riservatezza ma molto spesso non vengono letti o non vengono conosciuti e per questo che li commentiamo. Il primo è quello della rilevanza in sé che vuol dire semplicemente testimoniare che il progetto è perfettamente in linea con la metodologia di Life con l'obiettivo di Life. Se per esempio abbiamo in mente un progetto che ha impatti ambientali limitati è senza dubbio opportuno non presentare alcun progetto in questo bando, cioè bisogna capire bene l'obiettivo e la finalità del bando Life e costruire un progetto o magari semplicemente spiegare un progetto che in modo chiaro, in modo diretto, in modo trasparente incontra gli obiettivi che Matteo ha presentato prima, quindi gli obiettivi di tipo ambientale che Life si pone. Il secondo punto è quello dell'impatto. L'impatto è importantissimo come criterio, è diventato il criterio più importante anche tutti i programmi che sono all'interno del cappello di Horizon Europe che è l'altro grande cappello insomma sotto il quale rientrano molti finanziamenti di tipo diretto e europeo di cui magari commenteremo in prossimi webinar. L'impatto è molto importante perché l'impatto vuole dire che ci deve essere è la possibilità di misurare l'impatto ambientale, economico, sociale del progetto che vogliamo presentare in modo oggettivo, misurabile e tra l'altro con target che siano già definite a livello progettuale. Ecco che quindi alcuni dei criteri che vedete progettati qui, per esempio la ambizione, la sostenibilità del progetto, la misurabilità e dello sfruttamento, l'exploitation, quindi lo sfruttamento dei risultati del progetto sono criteri molto importanti sui quali ci si gioca gran parte insomma della possibilità di ottenere o non ottenere finanziamenti all'interno dei live. Importante anche l'ultimo punto in questi bullet point, cioè il fatto che sia un progetto quanto sia replicabile in termini di impatto perché posso avere un progetto che di per sé non crea un impatto grande, che so il progetto che abbiamo presentato prima della BM carrozzerie, attrezzare 50 veicoli non è che cambierà nulla dal punto di vista dell'inquinamento in sé, ma è il potenziale che apre questo tipo di dimostrazione che potrà invece avere un cambiamento importante, perché se questa tecnologia sarà effettivamente dimostrata a avere successo sia dal punto di vista economico che ambientale, ci si attende che saranno numeri ben diversi quelli che utilizzeranno una tecnologia di questo genere per rendere più efficienti e anche più ecocompatibili le proprie flotte di veicoli e sappiamo quanti sono i veicoli di trasporto pesante a livello europeo, coprono ancora, voi pensate che magari siano quasi tutti che so nuovi o ecologici o altro, beh dalle ultime rilevazioni che il cluster ha svolto siamo se ben ricordi intorno al 70% ancora di veicoli che hanno necessità di essere accompagnati verso una transizione ecologica e quindi potranno vedere questo impatto in modo rilevante, quindi questo per dire che il criterio dell'impatto deve disegnare un progetto sì interessante, sì ben fatto, magari anche piccolo, non troppo grosso di per sé, ma che apre una possibilità di impatto più ampia. Il terzo dei quattro progetti è quello della qualità, dovrebbe essere ovvia, cioè dobbiamo dimostrare non solo che abbiamo un'idea, come abbiamo detto prima, che è in linea con le priorità del live, non solo che è un'idea che potrebbe produttare gli impatti, ma che sappiamo come metterla a terra e qui bisogna scrivere un work plan, un piano di lavoro, un gant, una serie di attività che convincano il valutatore che non solo, lo ripeto, abbiamo idea in linea con il bando di impatto, ma che abbiamo tutte le caratteristiche per fare in modo che queste idee diventino progetti effettivi, quindi scrivere un progetto in modo efficace, in modo corretto è importante e anche avere e anche dimostrare di essere pronti a comunicarlo, promuoverlo, che è l'ultimo punto di questi bullet point, è quello della comunicazione, della promozione del progetto che è un altro elemento importante del live. L'ultimo criterio, adesso un attimo solo, ok, l'ultimo criterio è quello delle risorse, l'ho detto già all'inizio, quindi bene avere una buona idea in linea col bando live, bene che ci sia impatto, bene che facciamo e mostriamo di essere dei professionisti con un piano di lavoro, che siamo una azienda con un piano di lavoro molto chiaro, dobbiamo anche chiedere e porci un budget che sia opportuno, che sia bilanciato, trasparente, dobbiamo avere dei team in termini di risorse umane all'interno opportuni, quindi mostrare che abbiamo le competenze per fare quello che vogliamo fare e che poniamo un budget, quindi una serie di costi davanti a noi stessi che sia bilanciato con quello che vogliamo svolgere. In tutto collassa nell'ultimo bullet point, nel value for money, quindi dobbiamo proporre qualcosa che sia cost effective, che i cui costi siano ben bilanciati con il valore e con gli impatti che ne possiamo ottenere, sia a livello aziendale che più in generale in connessione con l'approccio tecnico che vogliamo proporre. Ci sono poi dei punti extra che vengono dati, ma sui quali non mi soffermerei molto, c'è qualche punteggio in più se si ha una componente di partecipazione internazionale un po' più ampia, tenete presente come Matteo ha indicato molti dei progetti, per esempio tutti quelli che vi abbiamo presentato all'inizio con la piccola eccezione di Itlib che ha un partner, ma tutti questi progetti hanno una partnership nazionale, cioè l'IFE ha una caratteristica che non richiede una partnership internazionale, però dà un premialità in più se vi è una sottolineatura di valenza europea del tema che viene presentato, in qualche caso anche delle partecipazioni, della partnership. Chiuderei la mia presentazione con qualche breve slide che deriva dall'esperienza di valutatore, quindi cosa noi suggeriamo ai nostri clienti, anche a noi stessi, di fare nell'affrontare, nello scrivere in un progetto LIFE, sono le ultime poche slide per il quale li abbiamo chiamati trucchi, ma non sono trucchi in sé, ma bisogna avere attenzione, capire, seguire questo tipo di linee guida nello scrivere progetti che siano vincenti, in particolare la lingua, quindi usare un inglese, un inglese che non sia troppo pretenzioso, che sia comprensibile, i valutatori LIFE vengono da tutti i 27 paesi dell'Unione Europea e anche da qualche paese che non fa parte dell'Unione stessa, hanno una conoscenza della lingua che è media, ovviamente tranne quelli che sono di lingua naturale inglese, quindi questo vuole dire anche attenzione all'uso della lingua, usiamo un inglese, una terminologia che sia comprensibile per il medio valutatore LIFE, non facciamo sentire i valutatori poco pronti, non costringiamoli a dover aprire Google o qualsiasi altra cosa per andare a leggere la traduzione di termini che magari usiamo perché ci piace mostrare la nostra cultura linguistica, invece otteniamo esattamente l'effetto contrario perché stanchiamo quel povero valutatore che deve pure andare a capire dal punto di vista linguistico cosa volete presentare loro, quindi l'utilizzo a un livello medio della lingua inglese è ottimo, è sconsigliabile un utilizzo spinto, quindi una lingua troppo sottolineata affatica il medio valutatore LIFE, poi cosette veloci, usare, scrivere in modo chiaro, in modo fluente, usare dei paragrafi corti, cosa che ho una grandissima difficoltà quando scrivo progetti e forse anche noi in generale in Italia noi siamo a usi abituati invece a argomentare ciò che vogliamo dire con tre aggettivi diversi e più di un avverbio, quindi usare a creare paragrafi lunghi, essere brevi, essere efficaci invece è molto importante, parlare solo di cose che sono rilevanti al progetto stesso e non perdersi in troppe chiacchiere al contorno che semplicemente stancano il lettore. Utilizzare quindi un linguaggio efficace ma anche essere diligenti, usare una terminologia che sia corretta, che sia in linea con la terminologia che viene usata nel bando. I valutatori LIFE, come tutti i valutatori di tutti i programmi europei, leggono il bando e quindi svolgono il loro ruolo in funzione del bando LIFE, quindi usare esattamente la terminologia del bando vuol dire entrare in empatia con i valutatori e non creare loro dubbio che voi stiate presentando qualcosa che sia fuori dal contesto, quindi usare una terminologia che sia corretta, che sia in linea con quella del bando stesso. essere chiari, presentare un concept, farlo da subito, non presentare l'idea troppo lontano nel progetto, in termini ideali già nelle prime due pagine un valutatore dovrebbe già capire in modo molto chiaro quello che volete fare e quindi essere già pronto a cogliere, a sposare la bontà dell'idea del vostro progetto in sé e poi semplicemente le pagine che seguono dovrebbero dare conferma del fatto che ciò che state presentando è veramente efficace, veramente interessante e merita magari di avere l'alto punteggio che serve poi per essere finanziati. Fare riferimento a valori terzi, a valori statistici, che so Matteo prima diceva quanto importante è che ci siano idee che abbiano una valenza innovativa all'interno dei progetti LIFE, sì è vero ma non siete voi che dovete dirlo che è nuovo, non è sufficiente che noi andiamo a scrivere questa, è un'idea fantastica e ha un'innovazione enorme, dobbiamo referenziare questo con fonti, articoli, siti, prodotti, sistemi in modo che il valutatore sia convinto che non state raccontando la vostra storia ma che state raccontando una storia che è perfettamente e chiaramente riferenziata all'interno del testo e anzi invitare i valutatori ad andare a vedere queste riferenze finali per essere ancora più convinti della validità del vostro progetto. Fare riferimento a progetti precedenti, ai previously funded projects è molto coerente, molto opportuno e molto intelligente, dà anche modo di spiegare a chi legge, guardate che noi non solo abbiamo sentito del LIFE, abbiamo partecipato a un webinar in CSMT in un certo periodo, conosciamo bene i progetti LIFE, sappiamo che ci sono progetti nel passato che hanno toccato questo tema, ma noi facciamo qualcosa di molto più bello, comunque andiamo oltre a quello che è lo stato dell'arte anche in riferimento ai progetti precedenti. Ultima cosa è fare in modo che la lettura del progetto sia un piacere, non sia un dovere, tenete presente che i valutatori in linea di massima hanno ore, non hanno giorni per valutare i progetti che vengono presentati, anche se sono progetti da 2, 1, 1, 2, 10, 15 milioni di euro, li leggono in termini di ore, in termini di ore vuol dire che non bisogna stancare, bisogna essere leggeri nella presentazione, bisogna usare il grassetto, i colori, le figure, bisogna usare un'interlinea, bisogna usare un font che non stanchi i valutatori che qualche volta magari hanno anche un'età leggermente avanzata e non amano molto doversi faticare, sembrano tutte sottolineature banali ma vi assicuro che non lo sono e i professionisti della scrittura dei progetti sanno molto bene quanto valgono questo tipo di parole, questo tipo di valenza, è ovvio che bisogna partire da una buona idea, ci mancherebbe, bisogna partire da aziende serie, da idee buone ma poi bisogna saperle descrivere e raccontare in modo corretto, se no anche l'idea buona e l'azienda buona può correre il rischio di non ottenere il finanziamento, bisogna essere schematici, bisogna essere leggeri, in qualche modo bisogna anche non dare l'idea che si sta scrivendo un progetto per ottenere il finanziamento, non è assolutamente questo l'obiettivo, l'obiettivo nostro nel costruire progetti non è mai di ottenere il finanziamento, è di dare una risposta efficace alle challenge, quindi al problema che Life ci pone, che è un problema di tipo ambientale e lo facciamo tramite progetti che si candidano sia a ottenere finanziamenti ma non è mai il finanziamento l'obiettivo è la risposta al problema in sé e anche nel wording, nella scrittura, nelle parole che usiamo nello scrivere i progetti deve trasparire in modo molto chiaro questo tipo di approccio, quindi il finanziamento è semplicemente una conseguenza logica dell'obiettivo che noi ci poniamo nel richiedere e nel presentare un certo progetto. Dobbiamo essere degli studenti bravi, ho finito, è la penultima slide mi sembra, dobbiamo essere, o poco manca, degli studenti bravi, dobbiamo essere degli diligenti studenti, cioè dobbiamo rispondere a tutti i criteri specifici, dobbiamo scrivere un progetto come se stessimo facendo un buon compito, un buon homework, un buon compito da casa che semplicemente risponde alle domande in modo semplice, in modo diretto, in modo che i valutatori hanno da una parte i loro criteri, dall'altra parte hanno un progetto che guarda è proprio costitutato esattamente nello stesso modo e dà proprio la risposta alle domande alle quali gli stessi valutatori devono dare delle loro risposte, dei loro criteri, dei loro punteggi. Bisogna focalizzarsi e essere oggettivi, quindi essere concreti e non fare solo chiacchiere, non pensare e dire che vogliamo risolvere il problema ambientale o climatico, ma che vogliamo risolvere una questione molto specifica che andiamo a misurare, a quantificare, che abbiamo un'idea molto precisa di ciò che vogliamo misurare, guardate che la misurazione, l'oggettività sembra una cosa terribilmente ovvia da dire, ma ci mancherebbe, certo che dobbiamo farlo, beh molto spesso non c'è e lo dico da valutatore, molto spesso già c'è da ringraziare se i progetti immaginano dei parametri di misura, figuriamoci se inseriscono dei target, perché una cosa è essere misurabili, l'altra cosa è avere degli obiettivi che vogliamo misurare con dei tarri che già ci poniamo oggi, quindi cara Commissione Europea ti chiediamo un milione e mezzo di euro, ma perché vogliamo ottenere 50 veicoli, vogliamo misurare e ci attendiamo un certo impatto ambientale che andiamo a misurare, che è di una certa entità chiara, precisa e referenziabile, questo fa di un progetto un progetto vincente, alla fin della fiera, questo è veramente l'ultima slide, dobbiamo educare da un qualche punto di vista i valutatori, dobbiamo accompagnarli nel nostro progetto, non dobbiamo essere pretenziosi, quindi per esempio nella prima non mettiamo troppi riferimenti, articoli scientifici o di qualsiasi genere, non dobbiamo far sentire il valutatore ignorante, perché magari noi gli scioriniamo due pagine di referenze di articoli universitari che parlano della tecnologia che vogliamo declinare, il valutatore si innervosisce, perché magari considera anche troppo importante, dobbiamo semplicemente accompagnarli nel tema che vogliamo fare, i valutatori sono di solito esperti di ottimo valore, ma non sempre sono esperti così profondi di quel tema e di quella tecnologia che dobbiamo presentare. Matteo l'ha illustrato prima, l'AIFA ha dei temi così ampi che non è raro che venga presentato progetti in un ambito tecnologico che è così specifico che non incontra l'esperienza dei valutatori in modo così pieno, quindi noi dobbiamo spiegare al valutatore che senza dubbio competente lo è, ma magari in termini di massima su quel tema, perché dobbiamo fare qualcosa, che tipo di scenario tecnico scientifico ha, senza ripeto stancarlo, che tipo di implicanze economiche e sociali ha, dobbiamo quindi mostrare che siamo pronti e accompagnarlo all'interno del progetto stesso. Ecco io ho finito, adesso blocco la condivisione dello schermo, mi auguro di avere dato un contributo per spiegarvi, ecco blocco così, mi auguro che siamo riusciti a spiegarvi quali sono le caratteristiche del Bando Life e perché e che tipo di progetti potranno essere presentati all'interno del Bando stesso. Ho visto un paio di domande già poste in chat, ma abbiamo già dato, o meglio una domanda risposta in chat, abbiamo già dato risposta, chiedeva appunto se l'avvio del progetto di un progetto Life avviene dopo la firma del Grant Agreement, assolutamente sì, sembrano una domanda stupida, invece non lo è per chi è abituato a lavorare per esempio con fondi di tipo nazionale, ecco tanto per fare qualche piccolo esempio, magari ministeriale, ecco dove non è così inusuale che la formalizzazione contrattuale arrivi dopo e magari anche molto dopo la partenza di un progetto, così non è, Life non opera in questo modo, Life si prende il suo tempo, come ha detto Matteo, progetti che vengono presentati entro la fine di quest'anno non diventeranno progetto fino a settembre dell'anno prossimo, quindi si prendono certo nove mesi per l'intera procedura di selezione e contrattualizzazione, ma sono quei nove mesi e in quei nove mesi fanno tutto, cioè formalizzano il Grant Agreement, avviano il progetto e dopo 45 giorni, come ben sanno le aziende che ho menzionato prima, erogano già il 40% del contributo fondo perso, quindi opera con una efficienza Life, non solo quando si leziona i progetti, ma è molto efficiente anche quando contrattualizza e anche quando gestisce il progetto in essere, perché è un programma molto attento alla gestione del progetto in essere, alla rendicontazione dei costi e anche al seguito del progetto, è un programma comunque flessibile perché dà la possibilità di rivedere il progetto e di rivedere i propri contenuti anche durante il progetto stesso e quindi c'è una importante flessibilità e dinamicità. Vedo che c'è un'altra richiesta prima di vedere, di aprire i microfoni, da quando si può cominciare a spendere, non dalla presentazione della domanda, l'ha detto Matteo Falasconi prima, Life non è retroattivo, questo potrebbe sembrare una limitazione, per noi insomma è una valenza, comunque sia non si possono rendicontare costi antecedenti all'inizio del progetto, quindi ancora per essere pratici col bando che chiude da quest'anno non si potranno rendicontare costi prima del settembre dell'anno prossimo, quindi è post grant agreement quando si potrà cominciare a spendere. Vedo anche che prima di dimenticarmene che la collega del marketing Greta Consoli ha anche già messo online nella chat e vi verranno inviato un form di valutazione, lo menziono ora perché se no spesso me ne dimentico in chiusura di webinar, è un form che vi chiederemo di compilare non solo e non tanto per dare un giudizio al webinar, ma magari per segnalare vostre esigenze o la necessità di approfondire temi particolari. In questo momento non vedo altre domande all'interno della chat, lascio qualche secondo a voi se volete aprire il vostro microfono e porre domande in modo diretto potete farlo e siete invitati a farlo. Se non vedo aperti microfoni particolari io penso che torno ancora a dire ecco magari qualcosa di più sulla parte tempistica, se avete interesse a poter valutare idee progettuali, alcuni di voi già lo hanno perché vedo collegate persone con le quali stiamo dialogando a livello aziendale già in questo periodo, siete invitati a sottolineare e a darne evidenza in termini brevi perché la fine di novembre sembra in là ma non lo è molto, preparare un live richiede risorse, tempi e concentrazioni importanti, quindi è importante che non si vada oltre a questo mese di settembre nell'identificare e avviare attività di costruzione progettuale che poi potranno avere conclusione tra novembre di quest'anno e gennaio dell'anno prossimo. Io direi che può andare bene così perché vedo che non ci sono microfoni che si aprono, i nostri riferimenti email li avete, li avete visti nelle presentazioni, li riceverete con la copia della documentazione, saranno anche presenti, sono anche ora presenti in chat all'interno delle forme che Greta Consoli ha messo a disposizione. Io ringrazio Matteo della presentazione, ringrazio a voi, tutti voi della partecipazione, mi attendo di poter sentire qualcuno di voi, magari di poter ottenere sottolineature o idee progettuali di valore perché la selezione di progetti di valore è un punto molto importante per noi per poter scegliere quali sono quegli argomenti che meriteranno insomma a nostro parere o a nostro parere insieme insomma che potremo vedere insieme potranno diventare proposte di progetto per il prossimo live. Vi ringrazio molto e vi auguro una buona continuazione. A presto.